Oltre al dramma umanitario, la guerra in Ucraina sta portando ripercussioni anche dal punto di vista commerciale ed economico. Tra le conseguenze vi è anche il vertiginoso incremento del prezzo delle materie prime, con immediate ricadute anche sul territorio tenamano, con aziende che nel settore metalmeccanico e metallurgico iniziano ad andare in affanno. Una situazione che per i sindacati potrebbe portare a stretto giro ad una nuova ondata di cassa integrazione. Purtroppo quello che stiamo vedendo in questi giorni, in particolar modo io in un'azienda che seguo, dove è stata costretta a ricorrere agli ammortizzatori sociali appunto per lo schizzo del prezzo dell'alluminio in una maniera esagerata, addirittura loro riescono a malapena percepire la materia prima perché sono molto lunghi i tempi di attesa, ma in particolar modo perché non conoscono il prezzo, perché il prezzo verrà fatto proprio alla fine della consegna all'alluminio e loro in particolar modo, i clienti, dicono io sono disponibile ad aspettare, ma comunque il prezzo lo voglio subito, quindi si capisce che è un cane che si morde la coda. In particolar modo anche nel settore dell'acciaio, quello che stiamo vedendo in questi giorni, che l'acciaio ha anche lievitato i prezzi alle stelle, nel settore dell'automotiva anche un problema, perché l'automotiva molto spesso è costretto da parte, soprattutto i terzisti, a comprare l'acciaio da determinati fornitori che scelgono il cliente finale, in questo caso Marcegaglia, Marcegaglia ha molti stabilimenti in Russia, alcune aziende dell'automotiva hanno ricevuto delle disette ricommesse da alcune aziende dei paesi dell'est, quindi è tutto un susseguirsi di problematiche che stanno arrivando appunto dovute al fatto della guerra in Ucraina e questo è molto preoccupante perché è solo l'inizio, quindi da mio avviso più in qua saremo costretti a ricorrere veramente a molti ammortizzatori sociali, ma quello che preoccupa di più è che alla fine questi laboratori che comunque verranno messi in cassa integrazione e con salario abbassato, sono gli stessi che poi pagheranno le bollette raddoppiate sia di luce, acqua e gas. Il prodotto finale è proprio quello dei laboratori che pagheranno le conseguenze più grandi e tra l'altro anche l'Inps che già è fortemente provato dell'esborso di soldi di cassa integrazione sia della pandemia prima e ora se scoppierà questa guerra che è già scoppiata, è già in atto e non si fermerà, le conseguenze potranno essere drammatiche per l'industria metalmeccanica.